Sara Tommasi è una donna nuova, ben diversa da quella che in passato era vittima di dipendenze, protagonista di scandali. Oggi la ex showgirl, 42 anni, ha trovato l'amore con il suo agente Antonio Orso e si è trasferita con lui in Egitto, a Sharm el Sheikh, sulle rive del mar. In Egitto la coppia ha iniziato una nuova vita privata e lavorativa ed è soddisfatta della sua nuova cuore. Qui in Egitto sono rinate e qui ci risposeremo. In spiaggia ha raccontato Sara Tommasi a diva e donna che ha deciso di trasferirsi all'estero due anni fa dopo aver conosciuto il compagno proprio. Oggi economicamente conta su risparmi e non solo, io avevo dei risparmi, mi mantengo anche grazie a degli investimenti immobiliari, lui il suo lavoro di manager dello spettacolo lo può fare. Oggi economicamente conta su risparmi e non solo, io avevo dei risparmi, mi mantengo anche grazie a degli investimenti immobiliari. Molti si sono approfittati di Ma non mi importa È un capitolo Mi importa che sono riuscita a superare la mia malattia, che mi ha fatto vivere anni brutti. Dal 2009 al 2000 Ci scrivono molte ragazze, che come te hanno il disturbo bipolare o genitori di ragazzi che ne soffrono, per chiederti come hai fatta uscirne ha commentato Orso rivolgendosi alla fidanzata. Ci scrivono molte ragazze, che come te hanno il disturbo bipolare o genitori di ragazzi che ne soffrono, avrebbe potuto compiere anche gesti estremi per quello che aveva vissuto, invece voleva farci. Per la prima volta nella mia vita sono riuscito, grazie a lei, anche a piangere, senza aver, ma da solo non potevo aiutarla e allora l'ho convinta a tornare dal suo psicoterapia. E quando ha iniziato a stare bene è stata lei ad aiutare. Da tempo lontana dal mondo dello spettacolo, Sara Tommasi ammette che non le spiacerebbe ritornare in tv, se succede sono contenta. Tre anni fa mi avevano proposto di fare l'Isola dei Famosi, ma non ero pronta, ero uscita da poco dalla clinica, dove mia madre mi aveva fatto ricoverare, oggi se mi proponessero un reality, magari in coppia con Antonio. Un post condiviso da Sara Tommasi chiocciola ufficial Tommasi.